A pochi giorni dall'avvio dei lavori nei locali della Scuola Gabelli per l'intervento di restauro e recupero dell'edificio scolastico, l'Associazione Cittadini per il Recupero della Gabelli ha deciso di indirizzare una lettera aperta all'amministrazione comunale di Belluno, ma che vuol rivolgersi così anche a tutta la cittadinanza per esprimere il proprio punto di vista. Con questa lettera noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini bellunesi per segnalare alcune delle criticità che rileviamo nel progetto di recupero che in questi giorni dovrebbe prendere corpo. Queste criticità per noi sono legate a aspetti su cui da tempo in qualche modo facciamo presente all'amministrazione che sia la necessità di un recupero ai fini pedagogico-educativi, di un giardino, un giardino che ha bisogno di spazi per orti, fruttetti e oggi spazi non ce ne sono, non basta un restyling del giardino oppure il recupero del tetto, la praticabilità del tetto, ma ci sono altri aspetti nella progettazione che abbiamo in qualche modo osservato che riguardano una riorganizzazione funzionale degli spazi interni, ad esempio l'eliminazione dell'aula magna o spostamento degli uffici. Perché abbiamo fatto questa lettera aperta? Perché da tutte queste informazioni noi traiamo l'impressione che questa nella progettazione di recupero tornerà ad essere sì una scuola aperta alla cittadinanza, ma sarà una delle 12 scuole elementari della città di Belluno. Noi abbiamo a cuore e vogliamo promuovere il recupero non solo dell'edificio, ma anche delle metodologie pedagogiche educative che furono di Pierina Boranga, per tentare di ricostruire quella che è stata la scuola che faceva la scuola. Come si evince dalla lettera, sintetizzando per punti, sei sono i principali elementi di criticità su cui si sofferma l'associazione. La fruibilità del tetto, l'ubicazione degli uffici, lo smantellimento dell'aula magna, l'accesso ai disabili, la restituzione del giardino, la sua funzione didattica e la concezione degli arredi didattici.